amore eccomi qua amore 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 un bacione buonanotte amore io sto per andare a letto sono a casa in pigiamo ho fatto questo video questo sarebbe una specie di pigiamino che uso la notte e niente perché io sarebbe una tuta non la puoi non si può vedere e niente amore e ti auguro la buonanotte adesso come registo in video che ora sono più o meno le 9 forse di sera oggi giorno 27 febbraio ovviamente e niente lo pubblico su internet sono senza trucco senza niente puoi vedere acqua e sapone amore ti amo buonanotte e niente soprattutto stavo pensando sai che cosa stavo pensando mi chiedo ma che c'entra che c'entra nei soldi con le persone beh guarda amore non voglio parlare di cose brutte l'unica cosa che voglio dirti amore ti amo buonanotte 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 ti penso sempre buonanotte sto per andare a letto ovviamente non va